Sindaco parteciperà anche allo sciopero per i tagli e le prefetture? Il problema delle prefetture è un problema caldissimo, io spero che la politica cittadina sia al mio fianco, di destra, di sinistra, di centro. Noi non rischiamo di perdere solo la prefettura, perdiamo la prefettura, perdiamo la questura, perdiamo il comando provinciale dei vigili del fuoco. Non è possibile, il 22 c'è allo sciopero, io parteciperò allo sciopero insieme ai sindacati per far sentire al governo la nostra voce. Il governo non ci può trattare come sudditi che ci ascolta e neanche tanto, soltanto quando dobbiamo fare gli esattori. Vogliamo essere sentiti, il governo deve capire le realtà territoriali e su questi fare poi una proposta. L'Abruzzo è troppo penalizzato relativamente alle prefetture. Domani in scena la manifestazione per il Braga? Sì, domani c'è questa manifestazione, è una manifestazione importante di sensibilizzazione. Io in settimana ho sentito il sottosegretario Donchia per chiedere un incontro, perché dobbiamo andare avanti con la statizzazione, ma che non può essere a carico degli enti, che non ce la fanno evidentemente, statizzazione, ma con le spese a carico del governo. Chi parteciperà alla manifestazione domani? Ma io sono certo che parteciperà tutta la città, insomma ci sarà il Braga che si esibirà, ma sono certo che la città risponderà a questo, come dire, grido di allarme oramai cronico del Braga, perché rischia davvero di sparire e in questo momento sarebbe davvero un peccato.